iscriviti al canale pazzesco eh panda che ricorda molto kung fu panda è da molto che non ci vediamo ti aspettavamo in tanti nella locanda gatto magari qualcuno si disconnette si disconnette mi danno una moneta ripropongo la domanda ha senso fare top 50 per il gusto di fare no per una questione mia non ha nessuna utilità e questa è una cosa che fa male al gioco secondo me io non dico secondo me ecco quello su cui devono lavorare i developer di bg sono due cose una creare degli eventi per bg che possano generare contenuto non parlo per forza di esport perché perché tanto non ci sono non c'è la piattaforma per fare esport quindi ormai quello ce l'ho rinunciato esatto e poi qualche reward anche solo da un punto di vista estetico non mi importa che sia qua voglio livellare secondo me non mi interessa che sia cioè esport io non dico esport io intendo qualcosa che possa essere divertente capito per la community per gli streamer e per le community che poi possono essere tornei tornei meme cose simpatiche cioè cose del genere perché tanto lo sappiamo soldi non ne hanno per fare cose cioè nel senso non ne vogliono più investire negli esport o qualcosa quindi quindi quello non gli sport come li conoscevamo un tempo non c'è più chance e onestamente non credo che se ne senti neanche io non ne sento neanche particolare mancanza molto brutalmente su tft in base al piazzamento gli danno le skin per i mostriciattoli eh si 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 molto semplicemente roba del genere anche eeeh datemela qualcosa no? è probabile che questo work però rimettano un taunt eh un background ma proprio per il campo qualcosa di non non per forza di di efficace di 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 importante però manca di questo lato bg manca cioè lavora benissimo sullo sviluppo del gioco eeeh secondo me molto male in quello che c'è di eteo qua prenderei mummia sicuro e poi io prenderei l'unica morte poi la questione è se tenere goccia in campo e prendermi tra i danni sempre meglio eeeh eeeh l'altra questione se se mangiare con buccia anche alle mosse secondo me no stai andando bene eeeh eeeh che brutto per fare mamma mia 3 8 3 x facciamo con la l'unica qui manca mangiare due quattro la battaglia in furia là fuori quello potrebbe fare la differenza buona battaglia eeeh azzà 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 la tribla di goccia sì ma secondo me più importanti ragazzi farla questa ma la tribla azzà 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 Scusate, potrebbe essere asilo. Non era nessuno. Ci mangiamo la mummia di proposta, mi ha messato, ma ho messato, te lo mangiato. E che la dovevo vendere. Ho indubbiamente missato. I tuoi servitori hanno davvero dato tutto. Lei è chiave nella build. C'è goccina che è molto buona. Non so se vale il freeze. Ora io cerco, in realtà, dovrei cercare Azerite e Terraiolo. Quella febbe, diciamo, la... La build. Sì, mi costa uno, sono due roll gratis, quindi guadagno in gold. In più io comprei le spell, quindi... Cambia nulla, ma vedo una spell. È vero che faccio uno roll in meno, ma vedo una spell che secondo me è gratis. La spell che io ho già comprato, perché una spell mi viene data. . Che verano, mi luckily, il bisogno. Eragre le recola un tempo. Ottima giocata! Chissà quali saranno le conseguenze. Se avessi messo lui vabbè era buono, vero. Non, non. Non, non, non. Non, non. Non, non. Non ho trovato particolari spell Di quelle buone Il terriolo è già capitato prima O me lo sono perso prima Non lo so Perché il turno è stato Comunque un po' Difficile ecco Da un po' di vista proprio Del giro Allora non l'ho vista In particolare Però immagino che sia con la spell Quella con la quest Quella che dà più 4 e più 4 Perché Ho pensato l'altro giorno L'ho vista Bisogna un consiglio Due giorni che metto Costante flatulenza Perché benché questa cosa Non sia per un'altra Che i giorni in cui lavoro da casa E i giorni in cui sono in ufficio Sono importanti graff Hai mica qualche consiglio Data la tua esperienza In materia Per ammascherare i rumori molesti E inattesi Non te ne trucciare È natura Eh se magari questo lo giocavo Maledetto capione Bella scelta Molto 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 a solda pure anche a me non piaceva, eccoti una moneta d'oro per il biertzo potrei fare molto di più devo fare molto di più ce la faccio? si attiva ogni volta, una volta sulla tasca si mi piace il tuo modo di pensare si 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 serve davvero? a solda pure una di queste reclute anche a me non piaceva eccoti una moneta d'oro per il biertzo cadrò 100 conchiglie cingono le chiglie servitore in meno, una moneta d'oro in più pronto socio un servitore in meno, una moneta d'oro in più ok ok ti salteranno fuori gli auricolari dalle orecchie c'ho una 444 ci sono di perdere questo non ci possiamo stare insomma ci sono i tredici danni che mi mandano a 15 sono un po' più segno la battaglia è estremante rimettiti in sesto e torna a combattere anche io avrei scelto quello mi piace il tuo modo di pensare io sono il primo signore delle crisi giù sempre meglio sempre meglio avere qualche servitore da giocare che i giochi abbiano inizio ahhh dove ne un altro di questi? un servitore in meno, una moneta d'oro in più ahhh buono ahhh 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 e' facile sto sta build non e' facile per niente da, ora si livella o 150 di ea cotate dove rivella adesso perchè ora continuiamo a quello che mangia mangia lui e tenero infinite statistiche Alla prossima Audio Ho tolto I'm closing So che mi sto prendendo del tempo Non sono convintissimo C'è grosso son grosso Chiaramente Non so se son grosso a sufficienza È una build che ancora devo assimilare Questa qui Comunque ragazzi Cioè ancora sono un po' troppo macchinoso Nella creazione di questa build È una build fortissima Se la fai scalare Cioè vedete quanto Quanto son grosso Qua arrivare a delle 2000 3000 È abbastanza facile Se la build la conosci La riesci a fare bene E ci arrivi Quanto son grosso a sui Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che mette in mano. Scusatemi, sono molto concentrato. Perché è una build che ancora non ho assimilato, davvero. Non ho... Cioè, devo lavorarci un po' su questa build. Devo conoscerla, cercare di conoscerla meglio. Oh, dovrei aver sistemato l'auto. Avrò trovato fluidity. C'è un bel lavoro. Mantieni la pressione. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il 18. Io lo dico sempre. Fai le cose in grande o non farle affatto. Che i giochi abbiano inizio! C'ho 800 mele. Perché me ne prende uno. Da fuffa ho in mano. Senti il ritmo! Anch'io avrei scelto quello. Meglio assoldare una recluta. Finché vuoi farlo. Fate un sacco! Tolgo lui. Metto due mantidi. Anche mangiarmelo. Però poi non mangerei questo. Sempre a caso ci fosse un altro turno. A me che ho detto l'angolo. Cosa c'hai detto? Uh, pareggio! Uh! Evviva, evviva! Pareggio, pareggio! Eccoti! Dove va là fuori? Bene, bene! Bene! Stai davvero creando una grande armata! Eh, cinghiani non ci sono. Eh, non ha mangiato benissimo. Mi aveva detto. Potrei riprovarci. In realtà. Ha detto, io le scudo. Non ha senso mangiarla. Sì. Sì, divani su mantidi per forza. Su me qua conviene fare così. Sembra abbastanza forte, ecco, come board. Sembra abbastanza forte. Spettando tutti. Fa' attenzione! Ha sculato da un modo bene. Ha sculato anche da un freddo. Guardate che è quel Guardate che è un sacco Careggiamo questo Vincom è ancora È ancora da giocare ragazzi Ovviamente Butto via la mantide adesso No abbiamo la mantide a scudo Ti butto Sempre mantide comunque Cambio paura Ma no ma no Tutti sullo stesso no Non doveva accadere questa cosa Eh mangio sega Eh niente No me lo cambio due volte Davvero Che fai che io La spelle è buona Sta arrivando lui Sta arrivando lui Sta arrivando lui Devo ancora Devo ancora assimilarla bene questa build Chiaramente Però Però se Cioè nel senso Se ci lavoro meglio Fai delle robe Gigantesche Buono Uno Dio Sì Ciao